pubblico femminile di misto Polini io sono mister Rocco siamo al sesto casting eh siamo arrivati praticamente il penultimo sono in compagnia di un'altra aspirante mister Topolini il numero ventotto ventotto allora nome e cognome Ivan Bello ok dove sei? Gorizia Gorizia quanti anni ha questo bel ragazzo biondo con gli occhi azzurri verdi azzurri? Diciotto diciotto anni giovanissimo allora mi sembra un ragazzo proprio di quelli che passa tante ore a fare allenamento a fare sport mi sbaglio? Sì sì palestra e un po' di corsa ho capito sei ragazzo giovane che studia ancora? Sì sì adesso andrò in quinta superiore cosa fai? Magistralia Gorizia magistrale ho capito nella magistrale so che è una scuola prettamente femminile può essere? Sì 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 ecco quindi volevo capire un attimino all'interno di questa tua aula classe quante compagne ci sono? Ebbè su ventitré siamo in cioè sono venti ragazze e tre maschi è dura eh? Beh mica tanto ti fanno la corte o non ti fanno la corte approfondiamo si sincero si sincero no io sono fidanzato sei fidanzato? Con una di queste con una di quelle quindi sei blindato non puoi fare niente no no sei sorvegliato a vista vabbè senti allora ti sei scritto a mister Topolini bravo insomma un modo per mettersi in gioco no magari visto che si ha anche tante belle qualità cosa ti aspetti da questo concorso? Ma speriamo di non so magari di arrivare in finale fare qualcosa in più non so vediamo dai giusto non sai vediamo quel che viene piano piano vabbè ben arrivato grazie grazie tutto a posto tutto a posto benissimo allora quella è la telecamera adesso puoi dire salutare chi vuoi sei pronto? Vai saluto mia madre mio padre e la mia ragazza carina e tutti gli amici bocca al lupo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti.